Luca Serfilippi, ottimo risultato alle regionali. Sì, sono passato dalle 1.015 preferenze dello scorso anno a Fano a 3.357 preferenze a livello provinciale. Ho 33 anni e per me è un grande onore rivestire la carica di consigliere regionale. Rimarrò coi piedi per terra e continuerò il mio massimo impegno e penso che questo mi abbia primato, oltre per far parte del partito della Lega, che comunque abbiamo ottenuto un ottimo risultato a livello provinciale e anche locale, ma soprattutto perché il mio modo di fare è sempre stato in mezzo alla gente. Così continuerò a fare, quindi io oltre a ringraziare tutte queste persone di tutta la provincia, perché io non rappresenterò solamente Fano, ma tutta la provincia, sostanzialmente per me è un grande onore e adesso bisogna darsi da fare e rimboccarsi le maniche. Quindi un ottimo risultato che è anche conseguenza di una campagna elettorale diversa dalle altre. Sì, a differenza di molti candidati ho deciso di farla in mezzo alla gente, parte negozio per negozio, un po' a piedi, quando raggiungevo tutte le varie cittadine, da Carpegna a Pian di Meleto, Lunano, Sant'Angelo Invado, le ho fatte quasi tutte, anzi sarà modo nei prossimi giorni di andare dove non sono stato con un pulmino, quindi in mezzo alla gente, non in una sede fissa, perché la politica per riavvicinarsi ai giovani, ai meno giovani ha bisogno di andare in mezzo alla gente. Molta gente mi ha detto fatevi vedere anche dopo il voto, quindi questo è il mio impegno, di tornare sicuramente dagli imprenditori, dai negozianti, dai cittadini dopo il voto. Quali sono le prossime sfide? Le sfide sono importanti perché abbiamo fatto tante promesse da mantenere, in primi sulla sanità, dove abbiamo detto e ribadito che comunque dobbiamo potenziare le strutture pubbliche, riaprire gradualmente le strutture chiuse, quindi lì ci sarà tanto da fare e come ho già detto non avremo la bacchetta magica, quindi non riusciremo dall'oggi al domani, però è un impegno che va fatto subito. Poi gli altri due temi importanti sono il lavoro, tanti giovani come me sono in grandi difficoltà, non hanno prospettive e qui l'impegno dell'amministrazione regionale dovrà essere massimo. E in ultimo le infrastrutture, i cittadini hanno bocciato una classe dirigente che va avanti da 30 anni perché dalle promesse non sono passati i fatti. Noi su Fano Grosseto, Ferrovia Fanurbino e anche l'intervalliva nel nostro entroterra dobbiamo passare dalle parole ai fatti. È un processo lungo però bisogna veramente iniziare a correre.